Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo episodio della campagna di Allo 5 per andare avanti, andare avanti con Alleanza, in cui Osiris si allena con le lame di Sanghelios. Abbiamo appena salvato l'Arbiter nell'ultima missione, per cui direi di non perdere tempo, come dico sempre ormai, e andare al dunque, perché qua la situazione si sta facendo piuttosto interessante. Io non vedo l'ora di vedere dove andrà a parare sta campagna, perché adesso siamo entrati veramente nel vivo, per cui voglio vedere... Madonna mia! Spartan Jameson Locke, UNSC. Il capitano Lasky manda i suoi saluti, e ringrazia per la collaborazione. Te stanno brutti! Allo scoperto! Da quando le spie si annunciano, agente Locke? Sono uno Spartan, o... So chi sei! Eri un agente, quando ti sei offerto di uccidermi! Ma oggi ti ho salvato la vita! E ora dai la caccia a un altro Spartan, il più grande tra... In effetti... Che cazzo... Che cerchi pure! Non ci troverà mai! Madonna! È Cortana! Ha raggiunto i dispositivi dell'accampamento! Sa che il protettore è qui! Locke, è l'ultima possibilità! Tu sei in grado di farci entrare! Su Naion è l'ultima roccaforte che i Covenant ancora controllano su Sanghelius! Ci muoveremo solo, se certi, della vittoria! Dottore, Osiris si schiererà in un'ora! Prepari il suo piano! Ma, che dire! Sempre più ambigua la situazione qua che si sta dipingendo! Pronti? Giù le armi, Osiris! Siamo ospiti qui! Locke, ho informazioni, ma data la dimostrazione di potere di Cortana, non voglio parlarne su canali aperti! Ricevuto, dottore! Ci muoviamo! Sabotaggio! Dobbiamo rispondere! Provettiamo l'eniqua navale! Vediamo un po' che c'ha da dire! Ah, ho sbagliato strada! Ma perché sbaglio perennemente strada io? I cannoni in St. By the Raid disturbi... Venite qui, Osiris! Ho trovato un modo per attivare il protettore! Ha scoperto come attivare il protettore! Parliamone! Questo è un costruttore, uno strumento dei precursori interfacciabile con il protettore! I costruttori erano ovunque nelle strutture dei precursori! Queste colline pullulano di punti di supporto per il protettore di Sanghelios! Palmer ha le coordinate di una di queste stazioni! Dovremmo trovarvi facilmente un costruttore! Eeeh... Quindi? Dove devo andare? Signori? Ah, ecco! Spartan Palmer! Eccoci! A rapporto, sì, sì, signore! Allora... Siamo pronti, comandante Palmer! Ok, andiamo! Che bella questa... Che bella questa struttura, comunque, veramente! Bellissima! Abbiamo già finito la missione? Vabbè, direi che ce ne facciamo un'altra perché... La missione è più corta della storia! Raggiunto il punto di reduno, l'Arbiter darà il via libera! Bene, comandante! Vi collego alla rete di combattimento dell'Arbiter! Buona fortuna, Spartan! Pronti all'azione! Voglio un mostro devastante da dover affrontare! Voglio smadonnare! Ricorsa, ricorsa! Ah! Maledetto nano! Mi restate in attesa fino al segnale dell'Arbiter! Hihi! Dette a voi! Comandante Palmer, siamo in posizione! Ricevuto! Arbiter, tocca a voi! Affermativo! Ah! L'ama di Sangredios! Iniziate l'attacco! Affermativo! Ma no, ho sbagliato! Alleati in volo! Concentratevi su... Oh, cazzerona! Bene! Ma quanto è grosso! Aiuto! Aiutissimo! Ma merda! Ma merda! Le forze dell'Arbiter hanno distratto il Kraken! Avanzate fino alle coordinate dei... Affermativo, comandante! Andiamo! Jekyll! Siamo in scuola! Bisogna la tua arma! Grazie! Siamo in scuola! Siamo in scuola! Muovetevi, Spartan! Stanno arrivando rinforzi Covenant! Presto, presto! Io devo prendere l'altro, ma va bene, è uguale! Adesso, sai che cosa c'è? C'è che mi sono rotto le palle! Oh! Forza! Chi è il prossimo qua? Sono poco lento con questo affare Però ne vale la pena Ne vale la pena Vabbè basta sparargli a rota Ottimo Siamo pronti Assaltelli Vabbè Oh Andiamo Oh Cazzarola Via via Ma quanti siete Perché tutti col suicidio facile Aiuto Tutti avvezzi al suicidio questi Ma il mio obiettivo attuale Non so se sto facendo bene ciò che sto facendo ma Nel dubbio Mi sto facendo qualcosa Ma è una cosa completamente fine a se stessa Credo di sì No Niente Ma porcaccio Giuda Si diceva Dunque Si diceva ma non so se si diceva bene Più che altro Lo vediamo Se una viene giù Forse è la cosa giusta da fare Ok è venuto giù Perfetto Quindi deve Ah Deve venire giù pure l'altro Forza Dai Su Ma quanto ce v'ho Oh E io in tutto ciò che devo fare Arbiter Io guardo Signori Che tocca fa Ah ma qui era Ma hanno aperto adesso Vabbè Pronti Via via Prima che sia troppo tardi Ah non c'è assolutamente niente Ah no Ok Terreni del tempio Cosa è incastrato per terra E arrivassi incollato Ah Ah A parte che la Pistonia C'ha veramente il suo perché A sto gioco Ehm Te faccio la festa Se te trovo Te faccio la festa No L'ho lisciato Miseramente Ma chi è Aiuto Vale Ma chi è Che si accolla Al momento Eh Su Potrebbe essere un'ottima cosa Niente Niente Aiuto Compagni Presto Sto per morire Back Niente Guarda Sti Incapaci Maledetti Ah Beh Possino Niente Non devo fare affidamento su nessuno Io ogni tanto mi lancio All'attacco Alla cieca Perché dico tanto Poi mi rialzano Allora Forza Forza ragazzi Aia Fatto malissimo Ma se posso Perché volete Tutti quanti Da me Qualc'altro Cecchino No Ok Ah bello Una volta Bastava un colpo Per questi Ma cerchiamoli Come dio Io me voglio prendersi A fare Voglio prenderlo Ma perché Io sono caduto Ma Poteva essere Un momento epico Grazie Grazie Spazio E' un cecchino Jekyll Tornami Su Ah Oh Eh su Calma e sangue freddo La situazione Quasi sta Complicando Non poco Dove 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 Ma chi è tutta sta gente Nessuno deve andare a quell'affare Su Non riesco a prendergli il braccio Impressionante Ma quanti sono ancora Mi sta sparando contro Eeeh Chi manca Ah E' su Lasciamo una cosa Uno e l'altro Dov'è Si è schizzato tipo pallina Vabbè Io direi che Se può andare Diretti qua Tanto Avanzate C'è quello scudo di mezzo Scudo andato Beh A parte c'ho un colpo solo Su questa A me serve adesso Un'altra arma Che possiamo definire Primaria Perché voglio Tenermi questo qua Se dovesse buttar male Eeeh Bene Tutto chiuso È l'unica strada Forse c'è un meccanismo Nascosto Ho un'apertura Guardatevi intorno Osiris Ah ok Ce l'ho Ah Ah Liscio Clamoroso Eeeh Eeeh Ok Ho trovato Ho trovato qualcosa Sopra Sopra Ripiano Deve essere questo Succede qualcosa Ecco le coordinate di alzi Indicano oltre quella porta Muoversi Osiris Bene Avanti 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 Vabbè 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 Da che parte Devo Devo andare Io Uh Ecco Saremo noi Ad attaccarlo Affermativo Mamma mia Ma che figata Arbiter Siamo su un phyton Dei precursori Eccellente Aprete il fuoco Sui cover Spardan Spardan Apprezzo molto Il coraggio Ma qual è il piano La corazza del Kraken È troppo resistente Colpite l'interno E distruggete il generatore Ok Fate l'oggette Mamma mia Quanti Ma che bordello Dai che è andato Su Fuori uno Ah È fatto È fatto È fatto Quanti Sto Lisciando Oh Ah Oh Meno male Volevate una cosa Più esplosiva Direi che vi hanno Accontentato Ah Le pene Dell'inferno Per il vostro Povero falco Qua Oh Ma perché Lo liscio Ma perché Aia Direi che si potrebbe Anche atterrare Volendo No Forse No Manco una torretta Se riesce a far fuori Forza Forza Bene Se riesco a far fuori Le ultime cose Direi che abbiamo finito Vabbè Questo ha lisciato Miseramente Bene Direi che si può scendere No Sono sul kraken Il generatore sarà sul fondo Trovate una scenda Ehm Bella domanda Ah ecco Parlate qualcuno Sì Vabbè Io scendo Non mi filo nessuno Eh T'attacchi Mamma mia Una fatica Clamorosa Sotto Sotto Vabbè Facciamo prima Io devo levarmi Dalle palle No L'ho lisciato Miseramente Che amarezza Ma che amarezza Ero pronto Per caricarlo A morte Si è levato Sul più bello Come non detto Si diceva Oh Eh Eh Moccia Vai Deppero Mio caro Colpo Colpo diretto Sul generatore Mamma mia Bene Ehm Corriamo Noo Presto Presto Fuori da qua Ma io me ne andrei De corsa pure Ehm Perché Ma perché Perché Che devo fare io qui intorno Devo aspettare che esplodo Che finaccia Vittoria Ben fatto Sparbo Oh Ce l'abbiamo fatta Via Perché siamo tutti incastrati qua Io non so neanche che cosa è successo Sono incastrato Si capisce niente Ah ecco Eh bella domanda Io ho anche abbastanza paura Qua non c'è niente Qualcosa è sveglio È una mappa della regione Vedi Quello è il tuo Che delicadezza Alok Che ci seguirà Oh Sono arrabbiati perché abbiamo preso il loro costruttore Liberate l'area Vado all'attacco Cosa serve un'arma di questi E molla un po' Ok Carichi pronti Ok Ah, dieci colpi Vabbè Mamma mia Aia Ma io sono bello carico Eh, dai, su Andiamo Tosto Ma non si riesce a uscire da sto buco Ah Bene Via, via Fatemi andare a casa Bene L'abbiamo scampata anche questa Bene ragazzi, io direi che a questo punto, visto che la missione è stata completata, ci possiamo lasciare anche qui E io vi do come sempre appuntamento tra qualche giorno per questa undicesima missione che ha il nome che è tutto un programma, che è Prima della Tempesta Per cui niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.